Se hai voglia di divertirti, se vuoi vivere un'esperienza unica, se per una notte vuoi essere parte integrante di uno show mai visto prima, il 20 luglio non prendere impegni. Valle Camonica Servizi Vendite presenta Queenite Color Digital Experience. Dal calare del sole, coloriamo insieme la città. Queenite Color Digital Experience. Non fartelo raccontare, vivilo. Il 20 luglio ad Arfobuario Terme, zona stadio. Iscrizioni su QueeniteColor.it o nei punti energia di Valle Camonica Servizi Vendite.